Non solo uccise di sorpresa, ma si accanì anche su quelle povere vittime. 96 coltellate. Asporta il pube. Uno scempio inimmaginabile. In Italia non si era mai vista una cosa del genere. Non lasciò la minima traccia. Muschio selvaggio! In questa puntata approfondiremo una delle tante teorie che nel corso degli anni si sono sviluppate sulla figura del mostro di Firenze. Lo faremo attraverso il racconto dei nostri ospiti che, nonostante le sentenze emesse e ormai definitive, hanno dedicato anni alla ricerca di indizi, tracce e presunte coincidenze nel tentativo di dare un nome al mostro. Nel corso di tale racconto parleremo anche della figura di Joseph Bevilacqua, oggi deceduto, il quale, secondo le personali teorie dei nostri ospiti e soprattutto secondo il giornalista Francesco Amicone, non solo sarebbe stato il vero mostro di Firenze, ma addirittura anche il serial killer americano noto con il nome di Zodiac. Una semplice teoria, questa, che abbiamo voluto ascoltare, senza per questo volerne sostenere la fondatezza, solo perché, incuriositi, come molti, dal mistero che ancora oggi avvolge uno dei casi più controversi della storia recente. Dobbiamo e vogliamo, tuttavia, evidenziare e ribadire con estrema chiarezza, anche per rispetto nei confronti della famiglia del signor Bevilacqua, che a carico di Joseph Bevilacqua non solo non esiste né è mai esistito alcun procedimento penale e o indagine che lo abbia visto coinvolto per i fatti e gli omicidi adebitati al mostro di Firenze e o Zodiac. Ma l'unica inchiesta nata proprio dalla denuncia di Francesco Amicone è stata ritenuta dalla procura di Firenze completamente priva di fondamento, tanto che lo stesso Amicone è oggi imputato per diffamazione, proprio in ragione delle sue supposizioni su Bevilacqua. Oggi Muschio Selvaggio è una puntata particolare perché per la prima volta affronteremo una vera e propria inchiesta giornalistica, speriamo di essere all'altezza, e partiamo leggeri leggeri perché non ci siamo scelti un caso, diciamo, easy. Non leggerissimo, diciamo. Anzi, parliamo di più casi in realtà. Parliamo di uno dei più grandi, se non il più grande mistero della storia italiana, il mostro di Firenze. E poi parleremo anche di uno dei più grandi misteri della storia americana, che è il serial killer Zodiac. Possiamo oggi sapere il nome del mostro di Firenze? Il mostro di Firenze e Zodiac sono la stessa persona? Ciao, grazie innanzitutto per questa opportunità. Io sono Valeria Vecchione, chi è appassionato del caso del mostro di Firenze già mi conosce, sono una semplicissima impiegata milanese, con la passione però, appunto, per questo caso giudiziario, come diceva Federico, tra i più eclatanti e misteriosi accaduti in Italia. Salve a tutti, io mi chiamo Daniele e sono un ricercatore del caso Zodiac dal 2007, dal lontano 2007, post-film di Fincher. Gran film, tra l'altro, su questo siamo d'accordo. Grandissimo film, grandissimo film. Posso dire che non l'ho visto, scusate, nota a margine. È una cosa allucinata. Oggi me lo guardo con occhi diversissimi. Perfetto. Ho aspettato di vederlo per questo motivo qua. Dal 2007, perché quando è uscito il film, in realtà in Italia si sapeva pochissimo di Zodiac, quasi niente. È una storia talmente oscura, complicata e complessa, e che diventa un'ossessione. La fortuna è che tutti i file sul caso Zodiac, la maggior parte almeno, sono pubblici nel cosiddetto vault, nella cassaforte dell'FBI. Quindi sono consultabili nel sito dell'FBI. E da quel momento appunto ho cominciato a ricercare il caso. Contemporaneamente sono cresciuto negli anni post-mostro e quindi parallelamente ho portato avanti anche il caso del mostro. Quindi cioè, tu sei stato stimolato in questa ricerca dal film proprio? Sì, perché di Zodiac gli unici accenni che c'erano in Italia, tranne qualche articolo di giornale sporadico, diciamo che all'epoca se ne era pochissimo in Italia. Oggi cercheremo di affrontare un po' i macro temi, quelli più eclatanti, perché il caso e le prove a corredo sono veramente tante. Quindi, posso farmi una cosa a YouTube 2015? Quindi ragazzi, spollicciate il video, condividetelo, perché se andrà bene faremo una seconda puntata! Ok, scusate. Beh, perfetto. Potete disiscrivervi da Mosche e Selvaggio adesso. Favij. E iscrivervi ad Anthony di Francesco. Allora, da dove iniziamo? Questa è la domanda più importante. Io, se siete d'accordo, comincerei con un cappello introduttivo sul mostro di Firenze. Perfetto. Ovvero, si definisce mostro di Firenze, il serial killer che dal 1974 al 1985 uccide coppiette appartate nelle campagne fiorentine. Appartate... Dagli scopeti... Scopeti, esatto. È la piazzola in cui il mostro uccide l'ultima coppia. Sono tutte coppie appunto appartate, o in macchina, oppure in tenda, come i francesi. Si tratta di coppiette che appunto sono appartate in macchina per effusioni amorose, fatta eccezione per una coppia di giovani ragazzi tedeschi che vengono uccisi nel loro furgoncino Volkswagen. Dal 1974 all'85 c'è una scia inquietante. Chi all'epoca era già adolescente si ricorderà sicuramente del vero e proprio terrore che si poteva captare dai giornali e dai telegiornali. Nel 1982 le indagini portano anche a collegare un ulteriore omicidio di una coppia avvenuto nel 1968. Va detto che questo è un capitolo ancora molto dibattuto perché tanti appassionati studiosi e critici non hanno la certezza che anche quell'omicidio sia attribuire al mostro. Di sicuro dal 1974 all'85 il mostro massacra 14 persone. Famiglie che ancora tutt'oggi aspettano giustizia. Perché per esempio la figlia dei cosiddetti francesi sta ancora aspettando una verità che non arriva. Eh sì, sì perché... All'epoca di fatti aveva circa 5 anni? 5-6 anni, non ricordo esattamente. Era una bambina, andava a scuola tant'è che la mamma di lì a poco sarebbe dovuta rientrare in patria proprio per l'inizio delle scuole, delle sue creature. Tra l'altro è notizia di questi giorni che apriranno uno scatolone con delle foto appartenente alle vittime francesi che hanno scattato nei giorni poco prima di essere uccise. Ah, ok. Molto interessante. Il mostro di Firenze venne definito così anche per le sue barbarie perché non solo uccise di sorpresa ma si accanì anche su quelle povere vittime. Nel 74 con 96 coltellate alla vittima femminile. E dall'81 in poi non solo uccide e quindi massacra entrambi i ragazzi ma asporta dalle sue vittime femminili il pube. Questo sempre. E addirittura nell'84, nell'85 porterà via anche il seno sinistro delle ragazze. Potete immaginare chi ha avuto modo di consultare i fascicoli fotografici si trova davanti a uno scempio inimmaginabile tant'è che gli inquirenti stessi a quell'epoca rimasero talmente impressionati da dire che in Italia non si era mai vista una cosa del genere. Si poteva vedere in America. In America già i serial killer avevano preso piede ma in Italia non era mai successa uno scempio di quel tipo. Volevo aggiungere che le parti che venivano asportate dai corpi delle vittime avvenivano tramite delle incisioni professionali mi verrebbe da dire cioè nel senso ciò che si evince dalle indagini è che chi asporta pube e seni lo fa con delle nozioni o chirurgiche o quantomeno di caccia? Allora in realtà sì questo avvenne per esempio nel nel primo delitto in cui avvenuto nel 1981 nel cui il mostro appunto asportò il pube ma da lì in poi vi assicuro perché ho avuto modo di vedere quelle immagini terrificanti erano scempi veri e propri. Ah quindi nulla di chirurgico? No Se posso puntualizzare una cosa è questa storia del chirurgo No no ma perché me lo sto inventando io No no è vero È stato detto più volte che chi asportava quelle parti lì Aveva un mestiere Non era esperto Era molto esperto nel farlo È stato detto? Ok Opinione figlia dell'epoca che vedeva un chirurgo stile Jack lo squartatore che anche si è dibattuto in tal senso un chirurgo dietro i delitti del mostro di Firenze diciamo una figura altolocale C'è stato anche un indagato per questo Sì Le immagini sono molto significative perché il primo delitto in cui il mostro asporta il pube il taglio che esegui era di una perfezione mai vista Quelli successivi invece erano completamente diversi Non c'era assolutamente più quella precisione La precisione che vediamo nell'81 infatti fece pensare a qualcuno che sapeva maneggiare bisturi in chirurgia Però diverse persone a questo punto almeno due diverse nell'ipotesi sempre Oppure contesti e stati d'animo e situazioni diverse Tenete presente che si parla di delitti accaduti in piazzole buie Più passavano gli anni più il rischio era grosso e quindi probabilmente aveva più fretta nelle sue azioni Queste chiaramente sono tutte ipotesi Ma un dato è certo Federico ha detto giusto Nel primo si parlò di chirurgo perché effettivamente quell'escissione era perfetta non aveva una sbavatura quelli successivi sono massacri veri e propri Hai detto più persone in realtà la firma del mostro di Firenze è un po' anche la rivendicazione questa secondo me è una comunicazione del mostro che ci teneva appunto a far sapere che c'era lui dietro a quei delitti e sparava sempre una berretta calibro 22 e il munizionamento era Winchester serie H quindi è sicuramente 74-81 e due volte nell'81 82-83 e 84-85 Tanto che gli inquirenti andavano alla ricerca proprio di questi bossoli con questa H che veniva stampata nel momento in cui veniva premuto il grilletto stampava questa H e quindi c'era proprio un caso a quei tempi sul proiettile con l'H stampata tanto che quest'arma viene rinvenuta o viene attribuita inizialmente a Vinci Allora l'arma purtroppo non è mai stata rinvenuta noi non sappiamo esattamente Com'è che Vinci viene Salvatore Vinci Salvatore Vinci come accennavo prima viene tirato in ballo nel 1982 con il collegamento di un delitto avvenuto in un contesto di famiglie sarde nel 1968 la famosa pista sarda la pista sarda esatto ripeto il dibattito è ancora acceso molti si chiederanno ma qual è il dibattito voi dovete sapere che esiste un movimento un microcosmo io lo chiamo così che si chiama mostrologia che è formata da migliaia di persone fra cui giornalisti avvocati magistrati scrittori documentaristi ricercatori entomologi periti balistici un movimento un movimento a cui è stato dato il nome mostrologia perché dico che il dibattito è molto acceso perché all'interno della mostrologia ci sono i cosiddetti paccianisti sardisti per cui c'è una parte di questa mostrologia che è nettamente a favore di una tesi e chi di un'altra ci sono le correnti un po' come il PD dei bei tempi e questo movimento è molto acceso il dibattito è quotidianamente forte e talvolta anche battagliero ecco diciamo così chiaro chiaro per il 1968 comunque l'omicidio che parlate prima c'è un colpevole che è il marito della donna assassinata con l'amante quindi Stefano Mele mentre per il caso mostro dal 74 e i due delitti dell'81 sono senza un colpevole quindi il caso sono tuttora aperti sono tuttora aperti i casi arriviamo per dare giusto un po' di nozioni a chi magari non ha approfondito il tema del mostro di Firenze vogliamo dare una piccola infarinatura generale per poi affrontare una corrente mettiamola così una delle correnti con però delle prove a corredo di tutto ciò diciamo che il caso Pacciani finisce con il processo Pacciani e compagni di Merende finisce con l'assoluzione di Pacciani Pacciani viene rinvenuto morto quanti giorni dopo l'assoluzione e rilascio pochi giorni prima rispetto al processo che doveva essere esatto svolto ai danni dei compagni di Merende e Pacciani però prima Pacciani viene condannato primo grado viene assolto dove c'è anche la testimonianza appunto la testimonianza discussa che discuteremo dopo poi viene assolto e poi viene rimesso in mezzo da morto sostanzialmente in corretà con i compagni di Merende chiaro volevo aprire una piccola parentesi su Pacciani perché Pacciani viene ritrovato morto comunque in una situazione che tuttora si può dire un mistero nel mistero nel senso che Pacciani muore ditemi se sbaglio perché io anche io pochino so però non so se sono teorie che poi sono state verificate o debankingate noi facciamo le domande che fareste anche voi nei commenti io so che Pacciani viene trovato morto e la causa del decesso è attacco cardiaco ma vengono trovate tracce di cortisteroidi quindi un medicinale per l'asma ok che era un medicinale che lui non prendeva che faceva male alla sua cardiopatia è vero non è vero eh sì c'è anche questa questa leggenda diciamo allora io personalmente non ho dubbi sulla morte di Pacciani non ho mai avuto diciamo prove concrete ma come me chiaro quindi è una pura illazione una così è un'ipotesi che chiaramente da dove arriva da da chi giustamente pensa che Pacciani non c'entrasse nulla con i delitti del mosso di Firenze che venne fatto fuori prima di poter essere processato perché probabilmente avrebbe potuto voluto dire la sua sicuramente qualcosa sapeva in caso si si può pensare questo il no perché ho detto Vinci e ho detto Pacciani per far capire alle persone che ci guardano che questo caso è veramente un mistero nel mistero perché non solo ci sono delle vittime del mostro ma poi all'interno quando partono i processi quando partono le prime carcerazioni ci sono anche altrettanti morti sinistre collegati ai casi e alle vicende giudiziarie vero? Sì ci sono le cosiddette morti collaterali se ti riferisci a questo ossia negli anni in cui colpisce il mostro parallelamente nella città di Firenze avvengono strane morti ai danni di prostitute e quindi giustamente lo studioso ma anche il comune mortale si chiede già all'epoca perché si parla di fine anni 70 e metà anni 80 era difficile avere un serial killer le campagne fiorentine figuriamoci due certo a Firenze città quindi si potrebbe ipotizzare che queste morti collaterali invece effettivamente potessero essere dello stesso assassino perché teniamo presente che il mostro di Firenze colpiva con cadenza annuale fatta eccezione per l'81 in cui colpisce due volte all'anno ma poi fa 82 83 84 e 85 quindi nell'arco di un anno si potrebbe anche pensare che potesse colpire anche altrove anziché stare diciamo a casa con la televisione chiaro come introdurreste questa teoria che insomma la teoria che stiamo per affrontare è la seguente porteremo un nome come ipotesi c'è un nome un cognome di una persona e poi dopo questa già questa diciamo notizia incredibile questa persona sarebbe anche ipoteticamente tutto in forse ovviamente zodiac sì ciò che non è in forse è il fatto che questo cognome in realtà abbia già mandato una diffida a federico giustamente la famiglia bevi l'acqua dopo le mie asserzioni nell'outro della puntata di saviano in cui dico il mostro di Firenze e Zodiac sono la stessa persona Gio bevi l'acqua un po' troppo e un po' tumace qui metteremo ovviamente dei punti interrogativi la famiglia ma giustamente è morto da innocente sicuramente la famiglia avrà detto vabbè la prendo anche io come una provocazione di fida adesso invece saremo più precisi e parliamo di teorie entriamo nel merito entriamo nel merito come introdurreste questa teoria allora se posso la introdurre in questo modo nel 2018 un giornalista comincia la sua inchiesta perché nel 2017 inizia a intervistare tramite dei colloqui fisici personali a casa del signor bevi l'acqua e intuisce che a suo avviso potrebbe appunto essere interessante per un'inchiesta relativa al mostro di Firenze dopo vari colloqui parrebbe che il signor bevi l'acqua abbia ammesso al giornalista Francesco Amicone di essere effettivamente il mostro di Firenze e Zodiac motivo per cui il giornalista effettua una vera e propria denuncia e siamo nel 2018 questo è il 2018 uno potrebbe dire vabbè come è successo spesso in una storia un mitomane però chi era questo Gio bevi l'acqua prego Gio bevi l'acqua intanto è un un testimone del processo Pacciani e lui era il sovrintendente del cimitero americano dei Falciani dal 74 all'88 poi passa a Roma al cimitero di Nettuno e lui è un testimone del processo Pacciani e prima di questo però parliamo comunque di un un eroe di guerra un reduce dal dal Vietnam dove aveva mansioni sicuramente importanti era un investigatore di professione di uno dei corpi d'eccellenza il SID Criminal Investigation Division americano che sostanzialmente è una sorta di affari interni dell'esercito americano cioè quando c'è un crimine attuato da componenti dell'esercito o in locali dell'esercito interviene questa divisione il SID che indaga appunto anche tramite attività sotto copertura su questi crimini quindi la persona che si presenta nel 1994 il 6 giugno al processo Pacciani e questo lui non lo specifica al processo ma oltre ad essere appunto un eroe di guerra con più nereficenze una una parpe l'alt una silver medal una e una medaglia anche di bronzo due medaglie di bronzo quindi soldato assolutamente valvento al maresse diciamo con atti eroici in Vietnam assolutamente e anche un investigatore di professione infatti su youtube si può trovare tranquillamente la testimonianza si vede una persona da l'intelletto notevole insomma ci sono begli scambi con gli avvocati della difesa Pacciani come ci finisce un eroe di guerra in un cimitero? innanzitutto è un lavoro molto importante perché ad esempio quando arrivavano in visita presidenti americani vanno lì c'è un articolo di giornale dove lui il 6 giugno il giorno della testimonianza deve andare a incontrare Clinton e quindi insomma è un personaggio importante diciamo che è un'onorificenza mandare un personaggio del genere poi in in un ruolo appunto importante sai che l'avevo pensato invece ti relego lì perché magari hai fatto qualcosa no 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 assolutamente mi sembra una roba bella ti premio ti mando ti mando a gestire un civitero no? era assolutamente un ruolo comunque di prestigio ok ok questo è Gio bevi l'acqua che all'interno del processo Pacciani in qualità di testimone oculare dell'omicidio lui riconosce Pacciani come esecutore dell'omicidio in quanto testimone oculare si io a tempo di questo no no attualmente ora lavoro per l'ambasciata americana a Roma dove? come vedete ha questo accento particolare accento inglese americano che parla italiano il 1985 dove lavorava? al cimitero americano di Firenze la località come si chiama? la località c'è mezzo in Prunetta e mezzo in San Casciano al cimitero dei Falciani ha precisato che in udienza lui non lo riconosce come assassino qui Giobevilacqua colloca Pacciani sul luogo dell'omicidio ma non lo riconosce in quanto killer lo colloca nelle vicinanze della piazzola dove nell'85 vennero uccisi i due turisti francesi ma attenzione qua l'udienza siamo nel 94 lui riconosce il Pacciani diciamo nel 92 quindi a distanza di quanti anni rispetto all'85 sette sette anni perché parla solo sette anni dopo Giobevilacqua ma soprattutto e questa è una cosa fondamentale molto importante peraltro venuta fuori pochi mesi fa lui in udienza dice di vedere Pacciani per la prima volta che non lo ha riconosciuto nell'85 nonostante in udienza lo identifichi lo descriva perfettamente ma fino al 92 lui non lo riconosce Pacciani nel 92 invece probabilmente attraverso i giornali si ricorda dopo sette anni del Pacciani e in udienza però dirà che non l'aveva mai conosciuto prima ok cosa avviene durante l'inchiesta di Francesco Amicone Francesco Amicone fa denuncia quindi si apre un'indagine di routine per cui nel 2018 i carabinieri bussano la casa del signor Bevilacqua e verbalizzano tra le varie cose varie domande tra cui se il signor Bevilacqua conosceva Pacciani e lui dice sì quindi cambia idea più volte dice sì e non solo in udienza il 22 di ottobre scorso udienza ossia processo a carico di Francesco Amicone è stata sentita la moglie del signor Bevilacqua che non solo dice che Bevilacqua conosceva Pacciani ma entra nei particolari testimonia e dichiara che Pacciani era solito cacciare nel bosco adiacente casa loro e abbussare alla loro porta spesso affinché il signor Bevilacqua potesse aprire il cancello al di là del quale Pacciani aveva perso la sua selvaggina quindi abbiamo certezza e conferme a questo punto più che valevoli che Bevilacqua e Pacciani si conoscevano e quindi a chiunque sorge la domanda perché nel 94 in udienza il signor Bevilacqua non riconosce Pacciani non lo riconosce neanche nell'85 ma soltanto nel 92 tant'è che in quest'udienza l'avvocato Bevacqua difensore di Pacciani più volte cerca di stimolare il ricordo del signor Bevilacqua perché nel 92 perché non prima incredibile comunque avvocato Bevacqua e Joe Bevilacqua tra l'altro l'avvocato Bevacqua farà anche una situazione piuttosto pesante nel corso dell'udienza perché verso la fine quando faranno un confronto con l'altezza di Pacciani si sente l'avvocato Bevacqua dire fosse lui il mostro come dice fosse lui il mostro si 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 è sentito si è sentito questa testimonianza non è assolutamente adatta a una persona del livello di Bevilacqua nel senso che parliamo di un investigatore professionista che con un curriculum militare notevole assolutamente notevole lui cosa asserisce in questa testimonianza lui va là sostanzialmente per dire che aveva visto i francesi la coppia di ragazzi francesi che poi saranno assassinati al mostro di Firenze il giorno prima del delitto e che poi la sera i suoi cani la sera del domicidio i suoi cani abbagliamone volevano scavalcare la recinzione della sua abitazione e poi sostiene di aver visto un uomo che riconosce nel Pacciani specificando di non conoscerlo non l'ho mai visto e via discorrendo nelle vicinanze del luogo del delitto questa è la sua testimonianza però ci sono delle cose molto strane ad esempio l'avvocato Bevacqua ovviamente credo per screditare il testimone che stava un testimone importante che stava collocando Pacciani sul luogo del delitto esattamente una delle prime domande che fa è lei nel 68 dove era e soprattutto chiede lei ha mai avuto pistole e lui risponde con una battuta no solo i mani solo le mani se non che il SID di ordinanza aveva un revolver 45 quindi lui comunque nella sua vita il pistole era sicuramente male infatti sembra il minimo esattamente però questo nel processo è stato fatto passare ci sono delle affermazioni un po' borderline mettiamola così un ex carabiniere come l'avvocato Bevacqua sicuramente era attento a questi particolari e ha un po' preso di petto il testimone diciamo che questa è una testimonianza di battuta da ben prima dell'inchiesta di Francesco Amicone chiaro torniamo al 2018 appunto quando Francesco Amicone inizia la sua inchiesta parallelamente voi sapete che con l'avvento di internet per diversi casi giudiziari o cold case si è potuto avere accesso a una miriade di documenti nel caso del mosso di Firenze abbiamo potuto avere accesso a atti verbali testimonianze fotografie fino a quando mi imbatto esatto ecco qua ci imbattiamo in questa che cos'è questa? ecco questa allora va detto che il mosso di Firenze tende in scacco gli inquirenti per tutta la sua scia omicidiaria perché sebbene negli anni 90 vennero effettuati dei processi e ci furono anche dei condannati nella realtà il mosso di Firenze non lo fermò nessuno nessuno fu in grado di fermarlo si fermò lui non solo non lasciò la minima traccia o comunque non lasciò tracce che avrebbero potuto identificare e quindi fermare l'assassino lascia soltanto una cosa che è questa che vedete in sovraimpressione questa è una lettera macabra che invia a ridosso dell'ultimo suo omicidio ai danni della coppia francese diretta a un magistrato e che conteneva un lembo di seno della povera Nadine Murio quindi a conclusione della sua opera lui finisce brutto a dirsi col botto perché poi sparisce e non l'aveva mai mandato a lettere prima finale ad effetto proprio ufficialmente questa è l'unica traccia che ha lasciato di sé è vero anche la scena del crimine può lasciare degli indizi ma non abbiamo mai avuto tante informazioni quante poi ci ha rivelato questa busta chiaro io nel 2018 non conoscevo Francesco Amicone non conoscevo la sua inchiesta però quando ho visto questa immagine sono rimasta molto colpita io più la guardavo e più notavo qualcosa che non andava qualcosa di strano io lo sanno tutti gli appassionati al caso l'ho detto più volte ho passato settimane davanti a questa immagine perché dal mio punto di vista c'era qualcosa che non tornava non trovando una risposta a un certo punto mi sono detta devi avere un parametro di paragone quindi ho digitato semplicemente su Google la frase lettera anonima con ritagli di giornale e mi viene fuori questa lì ho capito cosa c'era di strano rispetto a questa perché vedete generalmente le lettere anonime composte dai tagli di giornale guardate come sono caotiche disordinate questo è quasi tutto lo stesso font bravissimo ok perché dovrebbe non riesco a capire non ci sto arrivando le prime tre righe sono state predisposte con ritagli tutti uguali ok lo vedi guarda la quarta riga guarda come è sconclusionata rispetto al resto io mi sono chiesta ma perché tu sei così preciso perché tenete presente che i verbali da cui abbiamo avuto nozioni attraverso internet lo dicevano chiaramente utilizzò un periodico periodico sta a significare settimanale o mensile ok mi insegnate che i settimanali e i mensili hanno centinaia di font lui invece va a pizzicare letterine tutte uguali per poi invece alla fine cambiare totalmente soprattutto con la parola repubblica perché mi cominci repubblica e poi mi finisci con un cia così diverso non avevi a disposizione i cia non ci credo i settimanali o i mensili hanno a disposizione posso dare una risposta banale magari si era rotto il cazzo di cercare le lettere tutte uguali fa raga che rottura di cazzo mi dice no ma non credo un'ossessione del genere ma la risposta poi l'abbiamo ottenuta e adesso ci arriviamo ok insomma e poi un'altra cosa torna sulla lettera guarda quel codice di avviamento postale 500 100 50 100 no non c'è scritto 50 100 c'è scritto 50 i ah i ok ok è una i non è un 1 come mai come mai lui pizzica un 5 uno 0 altri 0 e non l'1 ok anche in questo caso settimanali mensili sono pieni di numeri e lui pizzica la i insomma in sintesi io per rispondere a tutte queste mie domande avevo una sola possibilità trovare la rivista che avevo utilizzato nel 1985 però ok mi sembra come cazzo fai a trovarla scusami io l'ho trovata però ma come è possibile l'ho trovata perché grazie sempre alle fonti ormai inesauribili di internet si ha accesso al retro devi sapere dovete sapere che nell'85 quando arrivò a questa busta chiaramente del mostro di Firenze perché conteneva appunto un lembo di quella povera donna la polizia scientifica scollò uno a uno tutti questi ritagli ok perché perché voleva ovviamente trovare tracce biologiche chiaro chiaro ma anche per arrivare alla rivista perché la cercarono certo per capire che rivista tant'è che in udienza Bevacqua accenna il fatto poteva essere una rivista pornografica dal momento in cui dietro a un ritaglio c'è il nome Zoran Zoran all'epoca era un giorgista che faceva anche film ok quindi io ah giusto perché tu quando tagli la lettera c'hai la lettera da una parte dietro c'è un pezzettino di articolo magari bravissimo quindi io attraverso un solo retro che mi è stato fornito da un studioso ok sono andato a caccia della rivista che sbatti raga ma come fai eh ti sfogli passi due anni a sfogliare in biblioteca riviste ma toh raga diciamo che Valeria ha fatto un lavoro eccezionale una ricercatrice fuori dal comune però c'era qualcuno probabilmente il mostro di finanza stesso che forse voleva che qualcuno arrivasse alla rivista perché perché quasi tutte le lettere sono singole tutte se tu prendi una lettera singola dietro c'è scritte poche parole e piccole valla a trovare nella rivista poi è quasi impossibile chiaro tranne un della infatti stavo per dire della no chiaramente è intero è un blocco unico è un blocco unico senza il quale non la metto ah il primo della il primo della stavo guardando il secondo se uno ci pensa non ha senso effettivamente perché tutte le altre sono singole però posso dirci non so se ci penserai magari non ci pensi ma sotto non è lo stesso blocco però perché magari hai trovato un della tutto pieno e poi ma se arrivi a un tale livello non penso che te perdi in un bicchiere d'acqua c'è un altro aspetto che va sottolineato io ho interpellato chiaramente il perito che effettuò la perizia chimico-merceologica ok questa busta è stata predisposta con due colle la colla però che venne utilizzata per i ritagli era una colla a base di destrina e io al perito ho chiesto ma se avesse utilizzato la colla UU che lui che il mostro utilizzò per chiudere il contenuto e chiudere la busta cos'è la colla UU? quel tubetto giallo lo stick la prit la UU quella che fa i fili ok 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 se il mostro avesse utilizzato per i ritagli la colla U voi sareste stati in grado di scollare uno a uno ah no quindi si evince che lui per chiudere la busta usa una colla di un certo tipo per incollare questi cioè come se l'avesse fatto volontariamente c'è l'intenzionalità che fa parte di alcuni casi di serial killer che vogliono lasciare compreso Zodiac compreso Zodiac ok in due anni di ricerca alla fine ci sono riuscita e ho trovato la rivista gente gente chi è Michel Unziker chi cazzo è no la ricerca entra inevitabilmente di diritto all'interno della vicenda del mostro di Firenze perché è l'unico elemento certo oggettivo inserito nel fascicolo dopo 50 anni di assoluta non novità posso fare una domanda cioè io ovviamente voglio cercare di fare le domande che magari potrebbero farci le persone che guardano cioè che prova abbiamo come possiamo dire con assoluta certezza che è questa la rivista perché io ho trovato tutte le pagine che corrispondono a tutti i ritagli effettuati quindi con il retro delle singole lettere a questo ci arriviamo dopo ah scusami l'unica cosa che mi viene in mente all'epoca non cercarono ma qualcuno a livello giuridico è stato detto che è così ho depositato sì sì ho depositato un rapporto richiesto dalla procura e la procura mi ha comunicato già ai tempi che questo rapporto è stato inserito all'interno del fascicolo possiamo dire che la procura ha stabilito che era questa la rivista assolutamente ok perfetto quello che volevo chiedere all'epoca ci provarono a trovare mi dicevi la rivista anche perché sarebbe stato più facile magari non lo so trovare anche un'edicola l'edicola dove eventualmente un'edicolante con qualche volto riconoscibile anche restringere il campo sulle letture sì sì o metti che era una roba di caccia e pesca capito che era una roba molto verticale o erotica per l'appunto pornografica però attenzione questa rivista venne utilizzata nell'85 ma guardate che data porta 84 9 mesi prima più un anno anche se vai in edicola come fa l'edicolante anche a ricordarsi se 9 mesi prima qualcuno però che indizio vuoi lasciare allora adesso te li diciamo quindi travo la rivista siamo nel 2020 20 apro un canale youtube perché volevo raccontare il mio percorso di ricerca me lo chiedevano se lo chiedevano in tanti perché nel frattempo sono usciti libri che trattavano appunto questa ricerca apro un canale youtube e mi contatta Daniele Trinchieri che è lui mi contatta e mi dice guarda io sono uno studioso appassionato del caso del mostro di Firenze e ottimo conoscitolo del caso Zodiac io sento il caso Zodiac e mi chiudo riccio perché avevo già sentito parlare del Zodiac ma pensavo veramente fosse fantascienza il fatto che un serial killer dall'America si spostasse poi nelle campagne avevi già sentito quindi le teorie del mostro di Firenze e Zodiac perché già no in realtà quando io ho trovato la rivista venne fatta un'intervista a Paolo Cocchi che mi fornì il reto della paroladella e gli chiesero che cosa ne pensasse di questa di questa teoria di mostro di Firenze e Zodiac e quando lessi quell'intervista io fui la prima a dire ma di cosa stiamo parlando allora va detto che noi abbiamo fatto ricerche e abbiamo sicuramente portato degli indizi devono poi fare le giuste indagini diciamo che si mettono nell'equazione altri elementi tu hai trovato questa rivista che è una cosa completamente nuova che dà perlomeno degli scenari però non riesco a capire come e quindi Daniele ti contatta e mi parla di Zodiac io scettica non li do subito retta Daniele però è stato molto molto acuto molto sensibile perché ha capito che ero scettica e che non li avrei dato retta se non avesse diciamo giocato l'asso di briscola attenzione nessuno aveva la rivista ancora si sapeva quale fosse ma non era ancora stata rinvenuta una copia esatto Daniele mi dice guarda ah ok scusami lui ti chiama che non sapeva ancora di questa roba qua io leggo dell'inchiesta di Francesca Amicone nel 2018 maggio gli ultimi dieci giorni il titolo il titolo era altisonante io Zodiac sono il mostro di Firenze insomma lo leggi ti fa un certo effetto e io conoscevo bene il caso Zodiac e vi posso assicurare che per chi ha visto il film rimedia su quanto prima il primo delitto che viene ripreso descritto nel film che sarebbe poi il secondo delitto di Zodiac quando uno lo vede al cinema un italiano diciamo che conosce il caso del mostro lo vede al cinema pensa come il mostro di Firenze la prima cosa che pensi coppietta taglia un seno coppietta appartata arriva un qualcuno con una torcia e una pistola e spara ok chiaro senza motivi senza di non vabbè però ok quando ho letto quell'articolo il titolo insomma era altisonante però ho pensato che ci fossero cose interessanti l'appartenenza al SID l'ambito militare insomma erano cose che erano state dibattute nell'ambito del caso Zodiac quindi ho pensato ma qui c'è qualcosa effettivamente andando avanti poi diciamo che la teoria è stata secondo me sottovalutata in Italia parlando del caso quando è venuta fuori la scoperta di Valeria questa era il sacro grado della mostrologia tutti si chiedevano ma che rivista è che c'è dietro c'è un messaggio c'è qualcosa e io quando ho saputo che insomma era stata trovata la rivista la prima cosa che ho fatto ho contattato Valeria ma perché perché pensavo se Zodiac è dietro i diritti del mostro lì c'è qualcosa che riporta Zodiac sicuro ok e poi contatto Valeria quindi tu trovi la copia fisica no io non l'ho trovata no 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 io ho sentito il video su YouTube di Valeria lui mi contatta chiedendomi la cortesia di verificare se dietro i ritagli ci fossero dei riferimenti alla teoria dell'acqua che introduciamo adesso ok in realtà quando Valeria appunto fa l'annuncio della rivista io la contatto in maniera molto delicata le chiedo senza parlare subito di Zodiac in realtà tutto senta ma dietro ai ritagli c'è qualcosa che riporta all'acqua al 20 dicembre al paradiso o a orologi perché fai queste domande? perché erano le ossessioni del serial killer Zodiac semplicemente cioè perché vogliamo spiegare perché? eh ok forte il danielino comunque capito come se ok eh no perché allora innanzitutto Zodiac era un cacciatore di coppiette come il mostro di Firenze il primo attacco è del 20 dicembre 1968 e avviene a Benicia in California del North North Bay quindi la Bay Area intorno a San Francisco ok il secondo attacco sempre danni in una coppietta avviene il 4 luglio del 69 sette mesi dopo ok sempre una coppietta appartata quante vittime totali fa Zodiac? Zodiac fa quattro attacchi le vittime sono sette due sopravvissuti ok e il primo attacco appunto 1968 Lake Herman Road una via isolata è la via del lago Herman che collega Vallecco in California a Benicia ok è una strada è una strada lunga e desolata molto buia che era nota per essere una Lover's Lane quindi dove le coppiette si appartavano e appunto il delitto dove muoiono David Faraday e Betty Lou Jensen vittime di una calibro 22 mai identificata ci sono delle ipotesi una ZC Higgins e una High Standard modello 101 ma non è certa quella calibro 21 non è mai stata identificata muoiono i due ragazzi e non arrivano rivendicazioni non arriva assolutamente niente vuoto totale per sette mesi badate bene che erano posti a San Francisco era piena di delitti nel 1968-69 ma le campagne intorno a San Francisco no assolutamente erano posti tranquilli secondo delitto a Vallecco questa volta quindi la città gemella di Benicia e 4 luglio la notte del 4 e il 5 luglio del 1969 sette mesi dopo coppietta appartata a Blue Rock Springs al parcheggio del circolo di golf di Blue Rock e Darlene Ferry nel Mike Maggio anche loro vengono colpiti mentre sono in macchina tutte e due da una Luger 9 mm come lo sappiamo noi con una Luger 9 mm perché ce lo dice questa volta il killer direttamente perché poco dopo circa 40 minuti dopo arriva una chiamata al dipartimento di Vallego di un qualcuno che rivendica il delitto appena compiuto e la prima cosa che fa parla con la balistica li ho uccisi con una Luger 9 mm una pistola tedesca veniva usata nella seconda guerra mondiale quindi quasi un pezzo da collezione diciamo mettiamola così e a questo punto però questo questo soggetto che rivendica fa una cosa in più rivendica anche un altro delitto dice io ho ammazzato anche quei ragazzi al Natale scorso il 20 il 20 dicembre 1968 primo delitto di Zodiac e c'è questa rivendicazione in realtà di un omicidio che era rimasto insoluto e tra l'altro senza piste chiaro perché era stata controllata la pista della droga decide di rivendicare esattamente all'improvviso e di lì a poco cominciano ad arrivare delle lettere le prime lettere il 31 luglio del 69 quindi tre settimane dopo il delitto dove Mike Maggio comunque sopravvive il ragazzo riesce a sopravvivere e fornisce una prima descrizione di chi gli ha sparato sì in realtà non è una è una descrizione che parla di un soggetto alto all'incirca 5.8 quindi tra il metro 72 e il metro 75 un viso molto largo viso molto largo capelli a spazzola no mossi biondi questo è importante dei capelli perché è l'unica cosa che cambia negli avvistamenti quindi probabilmente si parla di parrucche però i tratti somatici sono quelli una persona molto robusta quindi 175 più di 90 kg quindi una persona robusta corpulenta corpulenta esattamente che non dice una parola arriva e spara dice niente tant'è vero che poi molto spesso l'obiezione che viene fatta a Zoya ma lui ha lasciato sopravvissuti però in questo caso l'assassino dopo che ha sparato spara prima al ragazzo che è nel sedile del passeggero poi alla ragazza che è nel sedile di guida il ragazzo si ribalta dietro nel sedile dietro della classica macchina americana la Corvair bella spaziosa l'assassino sente probabilmente un lamento un urlo di dolore del ragazzo torna indietro mette la mano con la pistola dentro l'abitacolo e cerca di finirlo in realtà fortunatamente l'ha colpito alle ginocchia quindi miracolosamente si è salvato però qui c'è la prima descrizione di chi gli ha sparato che è quella che ho appena fatto 27 settembre 1969 e qui il caso diventa ancora più intrigato due ragazzi Brian Alter e Cecilia Shepard sono al lago Beriesa che è all'incirca 70 chilometri 62 e a nord di Vallego luogo del secondo delitto e sempre in zona e stanno in piano giorno quindi parliamo all'incirca le 18 del pomeriggio 27 settembre quindi torno a San Francisco una bella giornata stanno facendo una sorta di picnic in riva alle acque del lago Beriesa all'improvviso vengono attaccati da un soggetto incappucciato con un cappuccio nero facciamo conto da boia una maschera da boia con un pezzo di stoffa sul petto con un simbolo il mirino o la croce celtica o mirino croce celtica esattamente questo però dopo che già erano arrivate le prime lettere di Zodiac perché le prime lettere di Zodiac arrivano nel luglio del 69 e arrivano tramite tre crittogrammi mandati uno al San Francisco Examiner uno al San Francisco Chronicle e uno al Vallego Times Herald e sono tre crittogrammi che però compongono un messaggio unico che poi questo crittogramma verrà risolto dopo pochi giorni dai coniogi Arden Betty e Donald Harden maestri di storia appassionati di enigmistica quindi non era niente di complicatissimo diciamo così viene risolto c'è un messaggio delirante adesso a memoria non me lo ricordo ma più o meno mi piace uccidere le persone perché è un divertimento anche meglio di scatenarsi una ragazza ma la cosa migliore è che quando rinascerò e quando rinascerò in paradiso le persone che ho ucciso saranno i miei schiavi nell'aldilà quindi abbiamo già scusami se ti interrompo abbiamo già un dato che ci dà questo serial killer ossia il motivo per cui uccide che è delirante però ce lo dice dice io uccido perché voglio gli schiavi in paradiso e quindi abbiamo già questo scenario il paradiso vediamo la teoria dell'acqua non solo ci dà qualcosa in più perché ci dà anche il suo modus operandi perché lui dice un delirio narcisistico dice che se non viene pubblicato in prima pagina lui passerà il weekend ad uccidere coppie appartate e persone sole quindi ci dà anche il suo modus operandi il weekend coppie appartate e persone sole e poi lo pubblicano quindi? lo pubblicano ma in settima pagina poi nel film c'è tutto il film è interessante per questo e lui in realtà si concentra molto anche sull'attività della stampa e sul dilemma dobbiamo scendere a patti certo dobbiamo essere condiscendenti oppure no esatto rischiamo anche perché poi entrano in mezzo altre dinamiche comunque di pericolo ma insomma adesso non ci addentriamo se no va troppo per le lunghe però è la sua in realtà se non sbaglio la sua iniziale richiesta in prima pagina invece poi scelgono in settima per non dare eccessiva risonanza ma comunque farlo se non che il 4 agosto cagaggia che lo fai fallo bene il 4 agosto quindi qualche giorno dopo l'assassino si autoprogramma Zodiac firmando una lettera cioè iniziando una lettera con this is the Zodiac speaking qui è Zodiac che parla quindi lui si autoprogramma Zodiac Zodiac era ed è il nome di una marca di orologi da sub Zodiac in cui compare sia il nome Zodiac che il simbolo eccolo qui il Sea Wolf quindi il lupo di mare il lupo di mare ed era un orologio molto in voga in Vietnam nell'esercito americano ah quindi ulteriore connessione con Bevilacqua diciamo che qui diciamo che qui riferimenti all'acqua che è interessantissimo ah beh giusto ok ok riferimento all'acqua un sub un orologio da sub waterproof terzo attacco Lake Beries e due ragazzi appunto che stanno facendo un picnic vengono approcciati da questo soggetto armato di pistola incappucciato che praticamente tranquillizza i ragazzi li minaccia dice che è solamente una rapina lui è una si inventa una storia dicendo che è scappato da una prigione nel Montana e è diretto in Messico quindi non vuole fare del male ai ragazzi bensì vuole semplicemente no 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 le chiavi della macchina la macchina e i soldi top alla fine i ragazzi Brian studiava sociologia poi adesso è un avvocato di Riverside è sopravvissuto anche lui quindi diciamo che sono tranquillizzati da questo modo di fare perché è una rapina esattamente fa legare il ragazzo dalla ragazza poi lega la ragazza improvvisamente c'è tutto un dialogo che ha con Brian Hartnell che gli chiede addirittura se la pistola è carica perché aveva letto che il rapinatore raramente usava la pistola carica per minacciare perché poteva sfociare in un omicidio esattamente e quindi lui gli fa vedere questa pistola effettivamente carica e quando i due ragazzi sono immobilizzati a terra all'improvviso in pieno giorno mascherato da boia li pugnala con il coltello quindi non con la pistola non con la pistola esattamente tant'è vero che poi sul portello della macchina dei ragazzi una carmanghia bianca di Brian Hartnell sulla portiera al lato passeggero verrà trovato appunto il simbolo di Zodiac con le date la prima data è del 20 dicembre 68 4 luglio 69 27 settembre quindi alle 18.30 e sotto una dicitura by knife di coltello cioè la scritta l'ha lasciata a Zodiac sulla portiera esattamente cioè come se avesse firmato un quadro esattamente con il coltello che tra l'altro quel by knife poi verrà nei giorni seguenti omesso dalle forze dell'ordine perché stavano cercando di ottenere un contatto con Zodiac e volevano capire perché voi pensate che coppietta appartata qualcuno approccia e spara coppietta appartata di notte questo all'improvviso di giorno coppietta appartata con il coltello un tizio che parla che comincia a raccontare diverso esattamente quindi il modus operandi già cambia quarto delitto Paul Stein un tassista qua prima obiezione ma il mostro di Firenze possiamo saperlo comunque Zodiac uccide un tassista a San Francisco l'ipotesi è che l'abbia fatto per fini giorni mediatici per spaventare perché diciamo la gente di San Francisco c'erano già tanti omicidi ma diciamo che nessuno aveva pura di Zodiac a San Francisco perché colpiva intorno a San Francisco tassista quindi una vittima facile uccisa a 300 metri da casa del sindaco di San Francisco un quartiere interrogato di sabato sera alle 21.30 con una camicia che viene tagliata del tassista e poi viene inviata come la lettera del mostro sempre un lembo ma in questo caso un lembo di amici non di pelle la teoria dell'acqua la teoria dell'acqua viene notata la prima volta da Leonti Thompson che era uno psichiatra forense di Napa che nel 1969 nota che gli omicidi avvengono sempre in località vicino all'acqua Lake Herman Road Lago Herman Blue Rock Springs le sorgenti di Blue Rock Lake Berriessa il lago Berriessa e Washington Street wash lavare questo è un riferimento vicino a Lake Street peraltro questo è un riferimento che sembra un po' diciamo così debole forzato forzato viene però ribadito nel novembre quindi poco dopo quell'omicidio dallo stesso serial killer che manda una cartolina che dovrei averla mandata con washhead ho appena lavato la mia penna che sarebbe tipo un pugnale quindi questo washhead viene mandato direttamente dal serial killer eccola qua ok vedete questa viene mandata dal serial killer nel nove novembre del 1969 quindi a meno di un mese dall'omicidio del tassista e a sottolineare quel washhead che l'omicidio avviene all'angolo tra Washington Street e Cherry Street in realtà sul libretto delle corse del tassista è citato a Maple e anche lui si riferisce a Maple però questo è uno dei misteri del caso fatto sta che Leon T. Thompson questo psichiatra forense di Napa nota che comunque tutti gli omicidi avvengono con l'acqua nelle vicinanze ma non solo perché Robert Graysmith l'autore del bestseller dell'86 Zodiac nota una cosa in più l'acqua non è solo fisicamente vicina ai delitti ma anche nel nome dei luoghi Lake Herman Road Blue Rock Springs e le sorgenti di Blue Rock Lake Beriesa Washington Street quindi ci sono anche altri dettagli perché ad esempio la chiamata che viene fatta dopo l'attacco a Napa ai due ragazzi di giorno avviene da accanto la cornetta viene lasciata appesa come qualcuno che vuole far rintracciare la chiamata e avviene da un car wash qua c'è il car wash e la cabina è attaccata a una lavanderia il Samkey Laundry Building ad esempio la prima chiamata quella dopo il delitto di Valleco avviene dall'incrocio da Trolm e Springs Road anche qui Springs di Sorgenti oltretutto scusami anche Zodiac nelle sue lettere fa dei chiari riferimenti sono ossessivi sono riferimenti ossessivi in ogni lettera c'è qualcosa che riporta all'acqua ad esempio descrivendo il primo delitto parlando dei ragazzi dice li ho annaffiati come se avessi in mano un tubo per l'acqua che è un qualcosa di assurdo se ci pensate un attimo perché che c'entra un tubo dell'acqua con una calibro 22 che spara con una lunga di 9 mm oppure li ascolterò oppure li ascolterò supplicare per l'acqua che è un passaggio del Mikado che lui cambia con li ascolterò le loro suppliche per l'acqua e li trotturerò nel paradiso poi là c'è il storio delirio comunque i riferimenti acquatici di Zodiac che sono sia nei luoghi fisicamente nei nomi nei luoghi sia nelle lettere e nelle lettere sono poi questa è una cosa che poi ha portato avanti anche Francesco Amicone ed è una delle cose che mi ha avvicinato molto alla teoria perché effettivamente sono tantissimi ad esempio lui chiamava i poliziotti bluminis che sono i cattivi blu anche questo l'ho messo di Yellow Submarine per dire ci sono tutti questi riferimenti un'ossessione un'ossessione oltretutto ecco Federico fai vedere le immagini degli orologi anche il suo nome e il suo logo stavo cercando prima i bluminis torna dietro torna dietro eccolo qui vedete questo è tratto dal libro di Robert Graysmith dell'86 pensate fosse strano che vedi l'acqua ok in tutti i delitti allora questo è relativo al mostro di Firenze in un articolo dell'84 ah questo è del mostro di Firenze appello di Zodiac a un legale attenzione perché questa è una lettera che è stata inviata il 20 dicembre del 69 a un avvocato Melvin Bellai 20 di dicembre guarda questa data come torna un anno dopo il primo delitto di Zodiac e se notate questo è del Corriere della Sera quindi è tradotto in italiano guardate qui come per favore mi aiuti sto annegando ah per favore mi aiuti sto annegando quindi sempre riferimento all'acqua questo sto annegando è un qualcosa di fondamentale perché sarà l'ultima firma del serial killer Zodiac certo perché ecco qui questo è l'articolo originale di Leonti Thompson dell'Opsia tra Forense che parla della teoria dell'acqua esattamente esattamente ecco vedi guarda da cosa prende nome e logo da un orologio waterproof resistente all'acqua diciamo che la caratteristica peculiare di questo orologio è che era waterproof la storia dell'acqua poi dell'annegamento diventa fondamentale nel 74 perché Zodiac ci sono state lettere che vanno dal 69 lettere telefonate quindi un comunicatore compulsivo che però dopo il primo delitto non comunica per sette mesi ma in realtà gli omicidi avvengono tra il 20 dicembre del 1968 e l'11 ottobre del 69 quindi è meno di un anno poi ci sono delle lettere degli omicidi discussi e via discorrendo ma Zodiac a un certo punto sparisce ed è il periodo tra il 1971 e il 1900 fine del 1973 tant'è vero che ci sono degli articoli facilmente poi si trova tutto su Ostello Volante che è il sito di Francesco Amicone e c'è un articolo che recita dove è finito Zodiac e c'è Dave Toschi che era l'ispettore di San Francisco che stava dando la caccia al serial killer che ipotizza che il serial killer magari è stato arrestato per qualcosa ma lui non crede lui pensa che si sia ad esempio trasferito all'estero per lavoro per esempio fatto sta che lui dal 71 al 73 non comunica ritorna improvvisamente il 29 di gennaio del 74 ed è la cosiddetta lettera dell'esorcista lui esordisce dicendo questa l'ho messa e dice eccola qui eccola qui che ha visto l'esorcista e pensa sia la migliore commedia satirica che ha mai visto e poi come vedete qui non c'è una piccola recensione non richiesta qui non c'è questi siamo in che anni siamo qui 29 gennaio 1974 però non c'è zodiac il nome non c'è nemmeno la croce perché l'attribuiscono lui per una perizia calligrafica sicuramente poi vedete alla fine c'è un me 37 san francisco police department zero quindi quello sarebbe un conto delle vittime e ricorreva nelle sue lettere qui però c'è una firma c'è un qualcuno che sta salutando gli Stati Uniti forse è un addio e quella firma è un brano un passaggio tratto da un'operetta di Gilbert e Sullivan il Mikado che aveva già nominato in una lettera che si chiama la lettera del Little List che sostanzialmente è un brano che narra di un annegamento quello è un sicilio per annegamento anche lì è la seconda volta e questa sarà l'ultima che il soggetto Zodiac che qui non è più Zodiac probabilmente l'ha smesso quel vestito si firma come un qualcuno che sta affogando e da quel momento Zodiac sparisce ci sono due lettere in realtà che però non sono mandate tramite Zodiac una è una lettera che parla perché vedete quella specie di simbolo strano alla fine quella sorta di kill viene omesso dalla polizia non viene pubblicato immediatamente poco tempo dopo l'8 febbraio arriva una lettera in cui lui fa un riferimento appunto alla parola kill però non si firma come Zodiac si firma come un amico un amico e l'8 maggio arriva un'altra lettera di un cittadino scusa sono incoglionito sarebbe tipo un kill stilizzato quello vedi sono capace di se non vedo questa nota nelle vostre pagine farò qualcosa di brutto che sono capace di fare che sarebbe un kill stilizzato comunque sia le 74 lui sparisce e siamo a gennaio e lì sparisce diciamo che l'8 maggio c'è l'ultima lettera firmata un cittadino quindi le ultime due firme in America di Zodiac sono un amico e un cittadino un amico e un cittadino e da qui sparisce da qui compare il mostro di Firenze a Firenze a Firenze nel Mugello attenzione 14 settembre 1974 il luogo del delitto si chiama le fontanine di Rabatta porca troia quindi anche qui aspetta aspetta veniamo alla rivista perché poi è questo che ha il thread union tra il caso del mostro di Firenze e l'inchiesta di Francesco Amicone facciamo quindi un passo indietro Daniele mi contatta e mi chiede di verificare alcuni dati e io mi metto alla ricerca di questi dati perché perché quando io ho trovato la rivista senza nulla sapere dell'inchiesta di Francesco Amicone cosa ho cercato per prima degli appigli riferiti ai condannati a Pacciani o anche altri soggetti entrati nell'indagine che non ho trovato non ho trovato nulla e tutti lo sanno perché poi la rivista oramai è pubblica la conoscono tutti e nessuno ha trovato nessun appiglio a nessuno né dei condannati né degli indagati o di chi ha sfiorato il caso io intanto mi metto alla ricerca mi metto alla ricerca e noto una cosa che io ero partita proprio da questa ultima riga perché non capivo non mi capacitavo del motivo per cui avesse dovuto cambiare font la sua precisione non capivo perché repubblica lo fai per benino e poi vai alla fine con questo c'è una discrasia tra la prima parte e l'indirizzo guardate cosa c'è dietro quel cia qua c'è dietro ecco cosa abbiamo anche il retro acque acque lago maggiore il paradiso terrestre però raga e se fosse solo una coincidenza andiamo avanti ok Federico quante possono essere io faccio quello scettico raga perché è giusto faccio la parte di quello scettico diciamo che dietro questi due ritagli noi abbiamo dei concetti riferimenti all'acqua cioè c'è scritto non è che è un riferimento c'è proprio scritto ma potrebbe essere un caso certamente acque lago maggiore paradiso ma magari la teglia per sbaglio io intanto inizio a dire beh però può aver cambiato carattere obbligatoriamente per cercare delle parole specifiche esatto guarda cosa ritaglia a un certo punto l'idea di telefonare è coi due tedeschi così appetitosi noi sappiamo che il mosto di Firenze ha ucciso due tedeschi questa è una pubblicità molto piccola a pagina 119 ok cioè io con questa scoperta praticamente sono riuscita a capire che il mosto di Firenze poteva utilizzare due paginette messe in croce per fare questa busta ragazzi ne utilizza più di 20 cioè ci ha messo del tempo è andato a leggersi perché torna scusami sulla busta aggiungiamo il dettaglio della colla ragazzi anche quello è importante le due colle diverse quindi è stato fatto per lasciare dietro traccia del retro guarda quei due piccoli zeri del 50i 00 quelli sono due zeri sono piccolissimi sapete che non riuscivo a trovarli? li hai trovati ho trovato anche quello ma cosa vuol dire che lui si è letto tutta la rivista che sbatti raga mamma mia quindi diciamo che esce l'ipotesi che dicevi tu dall'equazione cioè non l'ha fatto affatto non l'ha fatto affatto a cazzo anzi ci ha perso tempo diciamo e lui ci vuole dire sono io il mostro anche perché quella pubblicità dei tedeschi è dietro alle letterine firn che compongono Firenze per questo lui ha dovuto cambiare carattere perché lui ha dovuto andare a caccia di indizi per farti capire che era effettivamente lui è come se questa ultima riga fosse così sconclusionata perché è una firma ci sta dicendo sono io e ci sono determinati elementi che io Federico Marra io a un certo punto ho detto passo all'ultima lettera posso dire una cosa perché avrebbe dovuto dimostrare che era il mostro di Firenze non voleva dimostrare aveva messo un lembo di tetta si sapeva già che era lui e Zodiac era la sua ossessione era una sua ossessione quella di inserire elementi Lake Berry essa facciamo un passo indietro lui si presenta mascherato come un macabro pagliaccio ok quando sai che devi uccidere perché ti presenti così se sai che devi uccidere e nessuno può vederti per chi lo fai per te stesso bravissimo la stessa cosa ha fatto con questo a nostro avviso la zeta di Zodiac eccola qua infanzia la prende da una pagina sono più in retro troviamo la pubblicità degli orologi zenit tra l'altro no c'è quello che ti assomiglia esatto c'è un orologio che assomiglia anche nel simbolo e il simbolo anche è molto simile raga però se fossero tutte coincidenti bravissime la pagina dove viene magari capito uno si fa talmente tante pippe che magari cioè non voglio però metti magari ti fai tante pippe che alla fine una roba la trovi collegata non so ma una una siamo lui le va a pizzicare tutte torniamo facciamo un passo indietro vai avanti non potete trovare uno con Zodiac no perché Zodiac in Italia non c'era l'orologio vai indietro va a ritagliare queste parole qua ti fa capire che non è un caso il suo lavoro lui per la parola procura va a ritagliare le due R della parola morire ok sono queste le parole che lui va a ritagliare capisci che non può essere un caso un caso è quando tu da due paginette mi fai la busta e allora arriviamo al risultato caotico che avevamo visto con la ricerca su Google qui ha fatto un lavoro di fino guarda le parole posso dire che qua mi è venuto un brividino però onestamente se leggiamo uccide donna preoccupatevi tanto picchiava morire cioè è abbastanza è abbastanza inquietante è questo il lavoretto che ha fatto cioè se io devo produrre una busta veramente ci metto cinque minuti con due paginette con la copertina avrebbe potuto fare l'intera busta fatta eccezione per la Z che era pochissime pagine dopo quindi c'era un'attenzione specifica lui ha utilizzato più di 20 pagine casualmente troviamo questi riferimenti nell'ultima riga e finiamo col botto finiamo col botto la ultima E guardate da dove prende la E dalla parola care dolci acqui non mi credo dalla parola acqui ma scusate non può essere che era un numero dove si parlava tanto di acqua no c'era la E di care vicino tra l'altro prima c'era la E di care porca puttana ok mi state convincendo ok ma non è finita ok questa rivista a parte il fatto che scusate chi è che utilizza la E al posto dell'uno chi utilizza la E aspetta non Mir me lo aspetta chi utilizza la E al posto dell'uno l'anglosassone sì no way you should know cioè l'americano l'inglese l'uno lo fanno con una sbarretta non fanno l'uno come noi ah sì non lo sapevo eh sì comunque dietro la E repubblica come è scritto repubblica con una con una B republic ah republic oh repubblica repubblica l'avevano attribuito a un sardo anche qualcuno aveva anche il supposto che potesse essere straniero ma veniamo ancora a un altro dato interessante o ignorante o ignorante o straniero o errore in questo caso ci potrebbe stare ma mica ti fai tutto lo sbatti di mettere le lettere e poi ti dimentichi in a B ma Cristo cioè fai tutto sto casino qui una piccola svista andiamo avanti con le sviste e no vuol dire che pensava veramente che si scrivesse così eh perché uno che è così minuzioso eh sì eh ok vado avanti oppure anglosassone perché ripeto in una rivista piena di numeri uno per quale motivo mi devi tagliare la lettera I non c'è nessun motivo a meno che quel soggetto pensasse che quella fosse una I eh un numero uno perché l'americano e l'inglese il numero uno lo intendono con una I punto non ci sono purtroppo alternative ok veniamo all'ultima se possiamo dire ultima ma ce ne sarebbero tante però anche questa è importante la rivista ecco bravo lascia lì questa ok gente è in edicola nove mesi prima il 21 dicembre no no quella è la data di ritiro quella è la data di ritiro ah devo vedere la data aspetta fammi lì questa rivista aspetta che posso zoomare è nel 21 ok ma era in edicola fino al 20 di dicembre nella settimana del 20 di dicembre 20 di dicembre ragazzi quante possibilità avevamo che il mostro utilizzasse una rivista nove mesi prima proprio nella settimana del 20 di dicembre e perché non ha cercato una del 20 e ha trovato una del 21 era in edicola il 20 non ce n'erano altre in edicola quel giorno c'era quello c'era solo questo numero di gente in edicola il 20 di dicembre vogliamo trattare un'ennesima coincidenza quando abbiamo detto che comincia Zodiac a uccidere il 20 dicembre cosa scrive sulla portiera 20 di dicembre manda una lettera il 20 di dicembre questa rivista era in edicola il 20 di dicembre però c'è scritto 21 sì per me il 21 non c'era già più ma tutte le riviste funzionano così per via della programmazione televisiva ovviamente l'utente vuole sapere prima quali ci sono i programmi quindi questa rivista era sicuramente in edicola il 20 di dicembre ok in che giorno è nato il soggetto identificato da Francesco Micone no Gio bevi l'acqua è nato il 20 di dicembre tra l'altro nel caso Zodiac il 20 di dicembre c'è un qualcosa anche a livello investigativo sì un po' sì ok Brividino ce l'ha adesso no nel 20 dicembre nel caso Zodiac c'è qualcosa anche a livello investigativo perché a Melvin Bellay che è l'avvocato al quale arriva la lettera il 20 dicembre appunto lui in quei giorni era in Europa per un convegno è arrivata una telefonata alla sua abitazione di un qualcuno che diceva di essere Zodiac e che doveva necessariamente uccidere perché era il suo compleanno non poteva trattenersi quindi questo ha valore anche investigativo tanto è vero che nelle informative dell'ASA e dello stesso SID che sono stati coinvolti nelle indagini dal 29 dicembre al 19 gennaio cercano un soggetto con appartenenza o ex appartenenza a corpi militari questa non è una certezza nel caso Zodiac e soprattutto confrontano soggetti dati nati più o meno negli stessi giorni che sono i giorni tra il 20 e il 24 dicembre quelli dove Melvin Bellay era in Europa quindi il 20 dicembre oltre che primo diritto di Zodiac lettera portiera ha anche un valore investigativo perché Zodiac lo cercavano tra i nati in quei giorni tra i nati il 20 dicembre esattamente oltretutto abbiamo detto che chi ha prodotto questa busta aveva delle conoscenze particolari perché io non me lo vedo un Pacciani che cambia colla finché questi ritagli no Pacciani no raga però Repubblica con una B secondo me sì Pacciani quella sì infatti lui lo scriveva nelle sue lettere è stato trovato però non può essere questo l'appiglio per condannare un uomo chiaramente c'erano altri indizi ovviamente ma questa busta non è conducibile riconducibile a lui è riconducibile a un soggetto diverso con conoscenze particolari persino il lembo di seno fu lavorato affinché arrivasse non deteriorato affinché si potesse fare una comparazione con competenze diverse proprio c'era una formazione di un certo tipo che non poteva essere Pacciani veniamo ai giorni nostri ok si era ipotizzato fin dall'81 almeno che dietro il mostro di Firenze potesse esserci un serial killer straniero tant'è vero che c'è un articolo sulla nazione di Tulio Seppigli un antropologo che fa presente no non credo ci sia comunque che fa presente che quei delitti sono di tipo anglosassone da qui semplicemente parte anche De Fazio è stato confermato poi dall'equip di De Fazio sul caso mostro che quelli sono delitti che solitamente si vedono nel nord dell'uomo o comunque nei paesi anglosassoni le avevamo accennato all'inizio nel senso che in Italia non era mai successo Francesco Amicone parte da qui e arriva a questo soggetto Giuseppe Joe Bevilacqua testimone del processo Pacciani e comincia una serie di colloqui con lui nel 2017 ok da luglio in poi i due cominciano a parlare del mostro di Firenze e di Zodiac fino a quando comunque Bevilacqua aveva offerto degli spunti per la decrittazione di alcune lettere di Zodiac crittogrammi e via discorrendo e Amicone tramite questi aiuti di Bevilacqua sembrerebbe aver trovato il nome di Bevilacqua su questi fogli cioè quindi scusa Bevilacqua aiuta Amicone a risolvere degli enigmi di Zodiac il modo per capire la decifrazione del nome Zodiac e si autodenuncia e no scusa cioè lui trova Bevilacqua come soluzione a degli enigmi di Zodiac Joe Bevilacqua avrebbe dato ad Amicone il modo di capire la decifrazione del nome Zodiac perché c'è un cifrario di 13 lettere abbiamo delle registrazioni che possono attestare questa cosa abbiamo delle prove tangibili Amicone non ha registrato le telefonate per comunque anche se era consentito la legge per l'etica professionale non le ha registrate ad ogni modo la prima segnalazione Amicone le ammissioni sembrerebbero essere avvenute il 12 settembre del 2017 quindi le ammissioni intendiamo che secondo Amicone Joe Bevilacqua ammette di essere sia Zodiac che il mostro di Firenze in una conversazione telefonica avrebbe ammesso che c'era il suo nome sui cifrari di Zodiac a questo punto nasce sembrerebbe essere nata appunto una una discussione tra Amicone e Bevilacqua sull'opportunità di costituirsi e sembrerebbe che Bevilacqua alla fine avrebbe accettato chiedendo cosa portare effettivamente ai carabinieri e avrebbe chiesto esplicitamente ad Amicone se dovesse portare la pistola quella con la famosa H i proiettili hanno la H la pistola è un'arma ok ok l'H si trova sui bossoli e lo avrebbe chiesto ben due volte in tutto questo Amicone sostiene che la moglie di Bevilacqua Mary sarebbe stata al fianco di Bevilacqua e avrebbe ascoltato la confessione tutta la conversazione ok esattamente allo scopo di aiutarlo a costituirsi a questo punto e dopo la missione del 12 settembre 2017 lo ricordo Amicone avrebbe indicato il nome di un avvocato suo conoscente a Bevilacqua ok allo scopo di aiutarlo a costituirsi il giorno successivo Amicone si reca a Firenze ma Bevilacqua avrebbe cambiato idea decidendo di non costituirsi e come glielo comunica? sostanzialmente gli dice che un amico telefonicamente un suo amico gli avrebbe detto di no di sempre di no che dietro di te non c'è nessuno cioè sostanzialmente dietro Amicone non c'era nessuno perché d'altronde Amicone poteva essere poteva avere dietro polizia carabinieri FBI non lo so Bevilacqua chiama l'avvocato consigliato da Amicone questo è importante questo passaggio qui ho portato i tabulati telefonici che attestano le chiamate allora queste del 12 settembre sono le telefonate di ammissione le presunte diciamo telefonate di ammissione di Joe Bevilacqua con Amicone le telefonate sono effettive il contenuto è presunto nel senso che possiamo dire che sicuramente Amicone e Bevilacqua si sono parlati perché queste sono le loro utenze giusto? quindi una cosa è certa in questa cosa Amicone e Bevilacqua si parlano quelle due invece in bianco e nero sono le telefonate intercorse tra Bevilacqua e l'avvocato penalista consigliato da Amicone allo scopo di aiutarlo a costituirsi quindi perché Joe Bevilacqua avrebbe dovuto chiamare l'avvocato indicato da Amicone c'è un particolare perché questo è certo Joe Bevilacqua ha chiamato l'avvocato però di queste telefonate i coniugi Bevilacqua entrambi non hanno mai fatto cenno nella denuncia per diffamazione danni da Amicone quindi questa è stata appurata in un secondo momento dagli investigatori chiaro ok quindi Amicone è stato denunciato per diffamazione si attualmente il caso Bevilacqua è stato archiviato nel 2021 ok diciamolo e c'è un processo per diffamazione nei confronti di Francesca Amicone perché appunto aveva detto ho ricevuto queste confessioni da parte di Joe Bevilacqua allora sì credo che sia diffamazione e calugna perché se poi ha fatto una denuncia anche calugna questo è un altro aspetto è stato denunciato per diffamazione non per calugna la calugna quando tu denunci per calugna devi dimostrare che il denunciato ha mentito volontariamente cioè devi portare prove che mentiva sapendo di mentire certo la diffamazione invece questa prova non la devi portare la prima segnalazione ai carabinieri viene fatta da Amicone il 14 settembre del 2017 quindi il giorno dopo il giorno dopo la telefonata dopo l'ultima telefonata con Bevilacqua nella quale sembrerebbe aver detto di non volersi più costituire perfetto e a questo punto la denuncia di Amicone viene fatta ai carabinieri il primo marzo del 2018 e in realtà il problema nasce gli articoli di Amicone escono nel maggio del 2018 il problema nasce il 2 giugno del 2018 pochi giorni la pubblicazione dell'inchiesta perché compare un articolo sulla Nazione che ho portato questo è un articolo della Nazione del 2 giugno del 2018 attenzione quindi molto poco dopo gli articoli di Amicone dove per la procura di Firenze un articolo di Stefano Brogioni per la procura di Firenze la segnalazione di Amicone era una pista già morta dopo la convocazione dallo stesso presso la polizia giudiziaria dello scorso aprile quindi il 2 giugno comunque questa è una notizia pubblica è una pista già morta quella che in gergo viene chiamata una velina diciamo che in questo modo appunto Bevi l'acqua ha potuto facilmente deturre che non ci fosse una registrazione perché si parla di pista già morta e beh certo e diciamo che questo poi ecco un attimo la bufala di Zodiac in tribunale io un killer vi denuncio e appunto poi la famiglia ha fatto lo stesso diciamo con Federico però non denunciando ma mandando una piccola diffida giusta 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 no ma appunto fa benissimo in tutto questo Amicone è andato avanti nella sua denuncia e ha portato alcune integrazioni questa è una delle integrazioni portate da Amicone ricordo che il caso è stato archiviato nel 2021 ma due anni prima il 19 marzo del 2019 Amicone ha consegnato un'importante integrazione in procura con allegati dei documenti governativi ufficiali per chiunque si possono scaricare da blog di Francesca Amicone o stello volante i documenti governativi confermavano uno la permanenza continua di Bevilacqua a Firenze tra il 74 e l'88 il periodo in questione due i suoi trascorsi militari ventennali che erano ignoti alla procura anche perché non erano stati affrontati in tribunale esatto non emersi nel video che abbiamo visto esattamente non solo a questi documenti io oggi questa è una notizia che non è mai stata resa pubblica prima d'ora quindi è un'esclusiva per Muschio Selvaggio esclusiva per Muschio Selvaggio è stata depositata con questi documenti anche una mail del tenente colonnello Mark Rees comandante del battaglione di Bevilacqua in Vietnam anche lui pluridecorato comunque nel caso che ha confermato un'attività investigativa sotto copertura di Bevilacqua se potete far vedere ho portato la mail questa non è mai stata resa pubblica è una mail che parla innanzitutto di un soldato incredibile outstanding soldier un soldato d'eccellenza ecco mettiamola così questa è relativa a un'attività di copertura di Bevilacqua questa è del 68 però comunque era molto plausibile che Bevilacqua anche perché Bevilacqua avrebbe confessato ad Amicone di aver partecipato a inchieste sotto copertura nel 1969 in California quindi in pieno periodo Zodiac quindi collocano Bevilacqua lui ha parlato di inchieste tramite il SID sulla Caki Mafia e sostanzialmente era un gruppo di militari che gestiva dei circoli dell'esercito e rivendeva varie vettovaglie come dire lui ha partecipato a questa inchiesta appunto della Caki Mafia e sono indagini queste del luglio del 1969 quindi avvenute in California in pieno periodo Zodiac e sono avvenute sia in California che in altri posti ad ogni modo l'inchiesta è culminata a Los Angeles nel 1971 con l'arresto di un gruppo e almeno tre di queste indagini sono avvenute a San Francisco fatto sta che queste informazioni non sono state verificate dalla procura di Firenze perché non ce n'è stato bisogno a detta loro quindi non è stato mai contattato dalla procura di Firenze il dipartimento di giustizia americano da questa email sostanzialmente si evince che Joe bevi l'acqua si può collocare nei luoghi degli omicidi di Zodiac negli stessi anni giusto? no queste sono confidenze sono confidenze che ha fatto che avrebbe fatto ad amicone da quella mail si evince un'attività sotto copertura di bevi l'acqua nel periodo Zodiac quella del 1968 che non è riportata nel curriculum ufficiale militare di bevi l'acqua ah ok ok chiaro quindi questo è fondamentale perché attenzione che nel curriculum militare di bevi l'acqua non risulta la California quindi questa della California è una confidenza che bevi l'acqua avrebbe fatto a Francesco Amicone però sul curriculum militare non risulta nemmeno quella di attività che è sotto copertura che è sotto copertura quindi è plausibile che bevi l'acqua probabilmente lavorasse sotto copertura esattamente può aver svolto delle indagini sotto copertura perché il suo lavoro era quello per il SID in California nel 69 ad ogni modo la procura di Firenze non si è rivolta al dipartimento di giustizia forse non l'hanno ritenuta valida veritevole di ulteriori approfondimenti ecco però una novità una novità c'è dei giorni dei giorni nostri nel novembre del 2023 sua autorizzazione del sostituto procuratore Nicola Marini della procura di Siena del suo team per indagini difensive per il processo di diffamazione che sta affrontando Francesco Amicone chiaro Amicone ha inviato il profilo di DNA di Bevilacqua che attenzione è stato prelevato dalla procura di Siena nel 2020 in concomitanza con le indagini per il caso di Alessandra Vanni una tassista uccisa nell'agosto del 1997 caso aperto insoluto la procura di Siena ha acquisito questo DNA e Amicone è stato in grado appunto nel 2023 novembre di mandare il profilo DNA di Joe Bevilacqua agli inquirenti americani che indagano sul caso Zodiac per capire tuttora aperto insoluto e non c'è mai stato un colpevole incriminato ovviamente per confrontarlo con i campioni DNA del caso Zodiac chiaro non si sa bene quello che hanno gli americani comunque stanno cercando e stanno risolvendo cold cases un giorno dopo l'altro per gli sviluppi della tecnologia di estrazione del DNA che sono quotidiani praticamente la procura di Firenze tramite il procuratore aggiunto Luca Turco si era opposta al confronto richiesto dagli legali di Francesco Amicone del DNA di Bevilacqua con quello del caso Zodiac quale motivazione? esatto l'archiviazione l'archiviazione io adesso se volete ve la leggo io la leggerei le motivazioni leggiamola perché ragazzi no ma sono due righe ah due righe due righe perché è rilevante direi certo gli accertamenti espletati non hanno consentito di acquisire alcun dato obiettivo l'inchiesta giornalistica è caratterizzata da suggestioni supposizioni asserite intuizioni e non contiene alcun elemento fattuale suscettibile ad assurgere la dignità di indizio questa è la motivazione dell'archiviazione la procura di Firenze tramite il procuratore aggiunto Luca Turco si è opposta al confronto tra il DNA di Bevilacqua e quello dei sul caso Zodiac che però adesso purtroppo nel 2023 per indagini difensive Bevilacqua è purtroppo deceduto nel dicembre del 2022 ok e Amicone ha potuto farlo tramite grazie all'autorizzazione della procura di Siena di Nicola Marini per indagini difensive appunto ha potuto mandare questo DNA ok il DNA non era stato acquisito dalla procura di Firenze questo lo specifico perché il ROS quando è andato a sentire Bevilacqua è andato a sentirlo a casa sua e alla presenza di parenti e questo avrebbe impedito di prendere il DNA di Bevilacqua quindi il DNA è stato acquisito solamente nel 2020 su iniziativa di Nicola Marini sostituto procuratore di Siena ok è chiaro cose strane comunque allora avrei 700 domande però andando verso la conclusione vi chiedo adesso semplicemente delle considerazioni personali quindi usciamo un attimo da questo lavoro sì perché poi diciamo abbiamo dato una prima infarinatura ma si potrebbe entrare più in profondità rispetto a questa storia perché poi la storia si infittisce la storia si infittisce ma questo per farlo se spolliciate lasciate like guardate condividete poi magari vi facciamo la seconda puntata al di là di tutti gli elementi che avete portato l'enorme lavoro di ricerca vi chiedo uno alla volta chiaramente secondo voi Gio bevi l'acqua qualora venisse confermato il tutto in che modo avrebbe agito per conto di qualcuno qua parliamo solo di vostre ipotesi oppure altre ipotesi che sono state diciamo ventilate nel corso del tempo e soprattutto al di là della casualità della fortuna e della sua incredibile bravura come avrebbe fatto a farcela perché io e Daniele in questo abbiamo pareri leggermente discordanti anche se io penso presumo io non sono un'investigatrice sono una comune mortale che legge si documenta peraltro invito chiunque anche voi a andare su due siti particolari dove troverete il mondo sul mostro di Firenze mi riferisco per esempio al blog mostro di Firenze .com o insufficienza di mostro di Firenze .com per esempio è un'enciclopedia virtuale dove c'è tutto allora io mi sono fatta questa idea appunto scartabellando leggendo documentandomi trovo molto strano che il mostro di Firenze colpisse in piazzole notoriamente frequentate da guardoni senza correre il rischio di essere visto ho fermato anche ecco questa questa cosa non mi torna perché è questo che è accaduto lui era un soggetto scaldo ripeto non sono riusciti a fermarlo non lasciava tracce utili e andava in piazzole notoriamente frequentate da guardoni non è che qualcuno lo aiutava in tal senso spaventava le persone li bonificava il territorio questa ripeto è una mia pura constatazione di ipotesi varie ragazzi io credo che a parte che ci sono delle sentenze sul caso del mostro di Firenze questo lo ricordo sempre sentenze che non convincono sinceramente nemmeno i più accaniti sostenitori della tese dei compagni di Merende perché le dichiarazioni del Lotti sono in alcuni tratti diciamo imprecise ecco mettiamola sul leggero io ho sempre visto personalmente un serial killer dietro i diritti del mostro di Firenze perché mentre in Italia era una novità assoluta era un qualcosa totalmente fuori contesto negli Stati Uniti di personaggi del genere ce n'erano una decina in attività cito il Golden State Killer BTK insomma ce n'erano tantissimi io ho sempre guardato a quei delitti come appunto di matrice anglosassone io ritengo che chiunque conosca il caso Zodiac che purtroppo non è una questione semplice non ne rendo conto in Italia perché già il caso mostro è enorme il caso Zodiac altrettanto chiunque conosca il caso Zodiac non può fare a meno di notare alcune stranezze che sono intorno a questo personaggio poi da qui a dire a Zodiac il mostro ce ne passa ma ci sono delle stranezze secondo me la pista è stata estremamente sottolutata è stata liquidata in fretta sì io comunque dietro i diritti dei mostri di Firenze vedo una persona singola un classico tipo di serial killer con le sue ossessioni tra l'altro l'unica vera differenza tra il mostro di Firenze e Zodiac sono le scissioni perché nel caso Zodiac non ci sono scissioni ma attenzione perché ci sono altre cose che sono in realtà molto simili innanzitutto l'assenza di violenza sessuale in entrambi i casi c'è un disinteresse totale c'è uno sparo dietro l'orecchio sinistro che torna in una vittima di Zodiac e torna due volte in Italia è una tipologia di sparo piuttosto strana per un serial killer quindi due cacciatori di coppiette pistola coltello weekend luoghi vicino l'acqua l'unica vera differenza è quella delle scissioni però noi sappiamo che Zodiac era un amante del cinema anche un po' maga però visto l'esorcista il mostro comincia le scissioni nel 1981 nel giugno dell'81 6 giugno ed è discusso questo dallo studioso De Codia diciamo una celebrità nel contesto della mostrologia fin da tempo è stato anche portato al processo da Nino Filastò che l'ispirazione per le scissioni potrebbe essere stato il film Maniac non so se l'avete mai visto è una sorta di slasher del 1980 uscito in America nel dicembre 26 dicembre 1980 è la data sempre quella porca puttana sempre lì in zona comunque in Italia uscita a Natalizia in Italia invece è al cinema il 22 ottobre dell'81 al cinema centrale di Firenze mentre a Calenzano il mostro di Firenze sta colpendo quella stessa sera quindi Maniac era un passava anche un trailer lungo all'epoca tra l'altro in televisione pubblicamente c'era questo serial killer che faceva delle scissioni dello scalpo perché stava formando una sorta di manichino il mostro di Firenze non si accanisce propriamente sugli organi genitali bensì sulla parte pilifera quindi anche questa è una particolarità e tra l'altro non avvengono nell'82 non ci sono scissioni è un omicidio rogambolesco quello nell'83 non ci sono diciamo che c'è un elemento fondamentale proprio su questo sulla costruzione del proprio mito anche il costume che Zodiac sceglie di mettersi come diciamo prima in assenza di occhi se non i suoi cioè quindi interpreta proprio un personaggio e appunto si rifà a variarti in cinema in primis un'altra obiezione che viene posta è il primo è stato Ruggero Perugini in un libro un uomo abbastanza normale del 1994 sull'indagine dei diritti del mostro Zodiac era un comunicatore compulsivo il mostro di Firenze non comunicava esatto in realtà non è propriamente vero innanzitutto Zodiac dopo il delitto del 20 dicembre il 68 per sette mesi tace non dice niente non rimendica niente poi comincia ma poi risparisce un'altra volta dal 71 al 73 e il mostro di Firenze comunicava uccidere sempre con la stessa pistola e il stesso munizionamento è firmare delitti io vi sto dicendo che sono io quella lettera che Valeria ha fatto un lavoro a dir poco eccezionale perché se un serial killer non comunica sente il bisogno di uscire di scena in quel modo certo quindi anche qui c'è comunque una propensione a comunicare magari in maniera diversa il fatto che fosse effettivamente si parla per ipotesi per inchiesta un soggetto americano poteva mai mandare lettere a Firenze scritte a mano l'avrebbero pizzicato in 5 minuti anche perché nella ricerca che ha fatto Francesca Micone l'unico personaggio con background militare e contatto avvenuto con le forze dell'ordine con gli inquirenti del caso mostro proveniente era un nome solo usciva lui usciva quindi anche questo insomma se la pista è giusta il nome potrebbe essere quello ecco mettiamola così chiaro Micone in questo caso non può parlare della vicenda perché c'è un processo a proposito di questo vorrei dire vorrei spendere una parola a Francesco che è sotto processo perché è appunto accusato di diffamazione ma mi giunge voce che parrebbe che il signor Bevilacqua queste ammissioni non le abbia fatte solo a lui ah cazzo e qui mi taccio e no sul più bello ti tacci è giusto così abbiamo parlato abbiamo parlato di cinema questa è in realtà una grande ragazzi sul più bello questa è una grande puntata sulla bellezza del cinema e sarebbe una beffa gigantesca se il cinema che ha tra l'altro scatenato anche se vogliamo la tua voglia di ricerca portasse anche grazie al lavoro di tutti ad una risoluzione di quel caso forse sarebbe anche gradito dallo Zodiac di turno dal mostro di Firenze di turno vabbè un cerchio che si chiude perché parte dalla filmografia di un film che ovviamente di feature che invece come nella realtà non ha un finale chiuso voi sapete che uno studioso che si chiama Andrea mi ha contattato peraltro perché anche lui è affascinato e interessato da questa inchiesta dal caso mostro dal caso Zodiac e lui ha trovato ha fatto un lavoro molto interessante perché che anche in questo caso si ricollega lui attraverso i retri delle lettere scollate dalla polizia scientifica ha tolto tutto ciò che non era leggibile e ha lasciato solo le lettere ben visibili a caratteri cubitali e anche qua si parla di acqua è vero ci abbiamo una grafichina di questa tra l'altro posso raccontare la storia perché c'è tutto un po' surreale questo Andrea è un mio amico che conosco da quando ho tipo 14 anni che mi ha parlato alla festa della mia azienda di questa teoria allora ho detto cazzo facciamo una puntata su sta cosa qua no? e dove devo andare super affascinante vai giù giù ecco allora questa qua è l'immagine di tutti questo l'hai fatto tu Andre l'ho prodotto io questo ah ok l'hai prodotto tu però cioè comunque ok sul mio canale youtube ho fatto vedere la mia ricerca e sono arrivati a tutti i retro questi sono tutti i retro della esatto Andrea cosa ha fatto acutissimo è andato a togliere ciò che non era leggibile giusto ci sono veri ci sono dei pezzi se vedete ci sono dei pezzi che non sono leggibili quindi ci sono delle lettere poi pezzi che non sono leggibili non sono leggibili perché sono pubblicità quindi non hanno testo Andrea è un grafico quindi diciamo il grafico ha un punto di vista certo esatto e questo è ciò che rimane te guardate questa particolarità guarda quella s e quella e come effettivamente potrebbero ricongiungersi ricongiungersi a te a formare vai giù no non ho capito un cazzo scusate vai giù vai giù ancora ancora te olt se u u p o d v ok vengono fuori una serie di lettere quindi potrebbe essere un un altro enigma anagrammare lui ha fatto questo questo lavoro di anagramma quindi lui ha diciamo trovato tutte le lettere che ci sono leggibili leggibili bene vediamo e sono queste e si rifà al famosissimo corvo parlante tolte no no aspetta lui si rifà al famosissimo corvo parlante si delle settimane enigmistiche bravissimo dove dovevi trovare il filo conduttore attraverso dei gruppi di frase troncati ah ok quindi è un gioco della settimana enigmistica si 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 era fissata a mia nonna anche a mia mamma l'hai visto l'ho fatto molto spesso e se vai giù l'anagramma che lui ha trovato è questo la frase è dio a volte io ho più sete quindi sempre un riferimento all'acqua qua mi è venuto il brividino qua mi è venuto il brividino ma anche perché Andrea potrebbe essere un serial killer perché se ti metti a fare questa roba comunque è pochino beh ragazzi abbiamo scoperto la verità ma che roba è tutta questa puntata era un McGuffin il vero cos'è un McGuffin il vero mostro poi te lo spiego il vero mostro di Firenze e Zodiac in realtà sono la stessa persona non parliamo di Joe Bevilac ma parliamo di Andrea l'amico di Federico e siamo tutti morti non vedrete mai questo seguito no ma che roba quindi allora possiamo dire con assoluta certezza che l'unica frase vi sfidiamo amici trovate un'altra frase di senso compiuto da queste parole Jim Carrey mi sa che era un bravo Dio a volte ho più sete porca puttana raga che paura grazie mille ragazzi devo dire è una puntata incredibile ammiro il vostro lavoro di archiviazione di ricerca mi piace perché avete non solo due metodi un po' diversi ma anche due modi di narrare diversi e complementari perché abbiamo una macchinetta come dicevo un archivio che parte in quarta inarrestabile e abbiamo un'infatizzazione maggiore più teatrale quindi devo dire un duo splendido vorrei che raccontassero qualsiasi cosa nella mia vita quindi intanto vi ringraziamo e chissà magari ci sarà una parte due dove approfondiremo perché i temi in realtà non sono no 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 ne sono molti altri non sono finiti quindi ringraziamo Daniele Trinchieri e Valeria Vecchione per essere stati con noi e ci vediamo a una prossima puntata di Muschio Selvaggio amici grazie a tutti